Due simpatiche bargellette sui tedeschi e sui siciliani. Due amici tedeschi vanno al bar ed ordinano, due martini. Ed il barista, Dri. Ed i tedeschi rispondono, no, Zwei. Due amici siciliani si incontrano. Totò, ciao Antò, allora come l'Inghiterra? Antò, ah, Totò è magnifica, però ci essono alcune cose che proprio non ho capito. Totò, dimmi dimmi Antò. Antò, prendi ad esempio le strade, lunghe, laddve, quattro cosie di maccia e le chiamano street. I pullman invece, alti, due piani, e li chiamano vase. E femmine, alte, bionde, occhi azzurri, sì i due ginnettante, e le chiamano uomene. Ma una cosa proprio non ha capito, agli stop, o cattello dice, unwe. Ma dico io, che minciatenefautatia o ne vado io.